Questi cordoli di via Cesare Battisti rappresentano davvero un pericolo per i più anziani. Comprendete bene che a una certa età i movimenti sono abbastanza rallentati e poco coordinati e allora per un anziano è molto facile inciampare nel cordolo, non riuscire a scavalcare il cordolo e trovarsi purtroppo di faccia a terra, cosa che il farmacista, il dottor Spagnolo, ha visto con i suoi occhi e ovviamente ha dovuto soccorrere questi anziani caduti per terra. Sì, sì, indubbiamente è così. Purtroppo il fatto che la gente deve stare a guardare se arrivano macchine ha problemi per guardare per terra e quindi siamo dovuti intervenire più di qualche volta non solo noi ma anche chiamare l'autolettiglia per far sì che la gente venisse soccorsa. Poi lei si trova peraltro, piove sul bagnato perché lei, io non conoscevo il dottor Spagnolo, mi ha fermato e mi ha detto intervenite, segnalate il problema prima che mi ritrovi un autobus all'interno della farmacia. Di cosa si tratta? Come vede purtroppo sta cedendo questa griglia e siccome passano questi autobus pesanti purtroppo abbiamo questa necessità che il Comune intervenga perché ho fatto segnalazioni un po' a tutti quanti, vigili compresi, facendo presente il problema che si pone. Come vedete via Cesare Battisti è davvero un inferno tra cordoli, traffico che va in tilt, impazzisce, marciapiedi e manto stradale che sprofondano con rischi per la pubblica incolumità. E ciò nonostante qualche scienziato ha avuto l'ardire di far installare i cordoli. Non ci sono parole. Ecco, vedete proprio in presa diretta il pullman che passa, che transita e queste grate che prima o poi davvero sprofonderanno ancora più di quanto già stanno facendo registrare un abbassamento di livello del manto stradale. Grazie. 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 Grazie.